Musica Torno a parlare di serie tv americane e internazionali in questa nuova puntata, chiamiamola così, di MediaRest, la rubrica del mio canale in collaborazione con il sussediario.net Parlo oggi di una delle più amate, di una delle più seguite, di una delle più attese di anno in anno serie televisive, ovvero Game of Thrones per gli italiani il trono di spade la serie che va in onda su Sky Atlantic tratta dalle cronache del ghiaccio del fuoco di George R. R. Martin che ha avuto un grande successo perché ha saputo catturare tanto gli amanti dei romanzi e del fantasy in generale quanto invece chi il fantasy lo guardava di cattivo occhio e ha visto una reinterpretazione molto interessante e molto intelligente oggi ovviamente però mi concentro sulla quinta stagione che è da poco finita su Sky Atlantic per l'appunto ma anche su HBO perché Sky l'ha mandata praticamente in contemporanea le tre del mattino mandava in diretta, in originale la puntata dall'America secondo me questa quinta stagione ha ripreso in mano le fila del discorso una delle caratteristiche che avevano reso veramente forti le prime stagioni le prime due barra tre stagioni di Game of Thrones era il fatto di non concentrarsi sull'adattamento pedisseguo dei romanzi delle trame di Martin ma di prendersi delle libertà più andava avanti il tempo più si prendeva delle libertà e soprattutto creare una struttura che si concentrasse sui personaggi sulle atmosfere su ciò che accade prima delle guerre e delle battaglie e quindi creare una sorta di situazione molto particolare del tutto controcorrente rispetto al modo normale di gestire un racconto del genere che sia un racconto, un romanzo storico o un romanzo fantasy la quarta stagione aveva cancellato questo si era lasciato andare a troppi personaggi troppe linee narrative come se volesse recuperare un po' di tempo perduto rispetto agli eventi, ai fili narrativi che nei romanzi erano ad un certo punto e nella serie rischiavano di essere indietro e questo sprint gli ha tolto fiato, gli ha tolto respiro gli ha tolto interesse paradossalmente mettendo più azione mettendo più eventi si è tolto il senso di quegli eventi si è tolta la loro forza si è perso il respiro e si è arrivati a una sorta di noia questa quinta stagione recupera perché Martin è praticamente arrivato alla pari con i libri che ha già scritto e questo lo porta ad essere molto più libero a poter immaginare a poter creare mondi e linee narrative che si stacchino completamente da quelli che sono già stati creati nei romanzi o che saranno creati per i romanzi futuri questa libertà gli permette anche di mettere un freno agli eventi e concentrarsi sui personaggi diminuire le linee narrative per episodio non affastellare tutto dare ancora più forza ai dialoghi che sono stati sempre la forza di Game of Thrones e dei suoi romanzi dare più forza ai personaggi e agli attori e così questa stagione che è anche cresciuta nel gradimento basti vedere il risponso dei social media sta nell'essere riusciti a trarre il meglio dalla capacità narrativa di Martin assecondato dai due showrunner Wise e Benioff quindi collaborando con loro dare forza ai personaggi, all'atmosfera, ai luoghi dice molto di più la quinta stagione di Game of Thrones dell'arte narrativa di Martin si veda quello che ha fatto con un personaggio come Jon Snow più di molti romanzi stessi di Martin più di molti racconti di Martin come se solo adesso, dopo vari anni Martin fosse riuscito a adattare le capacità della televisione al proprio estro, al proprio genio come se ci avesse messo un po' per capire come funziona il giocattolo e saperlo usare al meglio spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti di riflessione su Game of Thrones ditemi sotto cosa ne pensate di questa stagione e della serie in generale così ne parliamo un po' e la settimana prossima si torna a parlare di TV con il MediaRes ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti